Anticipazioni Terra Amara Lutfi trova un giornale con una foto che rivela l'identità di Mehmet, Akan Gumusoglu. Scioccata, Lutfi corre alla villa per avvertire Zuleya. Zuleya, attende Akan per partire insieme in crociera e sposarsi, ma viene sconvolta dalla rivelazione di Lutfi. Quando Akan arriva, Zuleya gli mostra la foto, accusandolo di aver mentito sulla propria identità. Nonostante le sue spiegazioni, Zuleya rifiuta di ascoltarlo e lo caccia via. Fikret arriva durante la discussione e viene accusato da Zuleya di non averle rivelato la verità su Mehmet. Mentre Zuleya riflette sulla situazione nella sua camera, ricorda il momento in cui Akan le stava rivelando la sua vera identità prima che Vap intervenisse. Nel frattempo, Lutfi rimprovera Fikret per non aver detto la verità a Zuleya, sospettando che potrebbe essere stato minacciato. Fikret nega, sottolineando che Mehmet gli ha salvato la vita a Beirut. Ma Lutfi lo biasima per aver messo Zuleya in pericolo sposando il suo nemico. Fikret si apre con Lutfi, spiegandole di aver conosciuto Akan a Beirut e di aver visto il suo lato altruista, persuaso che non sia il criminale che tutti credono. Tanto Gaffur quanto Rashid si recano in paese per diffondere la notizia a modo loro, vantandosi della loro presunta conoscenza di Akan, attirando l'attenzione di molte persone. Incluso Sermin, che aveva assistito all'interazione tra Zuleya e Akan e si affretta a condividere tutto con le sue amiche. Ferita e tradita, Zuleya organizza una conferenza stampa nella sede della Holding Yaman, rivelando agli giornalisti che l'uomo che stava per sposare Akan, un trafficante d'armi ricercato a livello internazionale e nemico del suo defunto marito Demir, rivela anche il piano di Akan di acquisire le azioni della Holding e la sua trappola. Akan viene arrestato davanti a Zuleya, mostrando una sorprendente tranquillità. Durante l'interrogatorio, il procuratore riceve una telefonata dal Ministero della Giustizia che ordina di trattenerlo in attesa di istruzioni. Akan viene portato in custodia, mantenendo la sua sicurezza. Successivamente, il procuratore convoca i giornalisti per annunciare l'arresto di un pericoloso trafficante internazionale di armi, ringraziando le forze dell'ordine per il loro lavoro. È una giornata storica per Kukurova. Successivamente, il procuratore esprime gratitudine a Zuleya Yaman per aver collaborato alla cattura di Akan. Fikret cerca di giustificarsi con Zuleya, che è furiosa con lui. Deve persino costringerla ad ascoltarlo, seguendola con l'auto. Lei lo accusa di non averle detto di Akan per paura. Fikret nega e sostiene che Akan potrebbe non essere quello che sembra, ricordando un momento a Beirut in cui Mehmet aveva la possibilità di ucciderli ma non lo ha fatto. Zuleya lo interrompe, sostenendo che Fikret difende Mehmet solo per gratitudine, mentre per lei è solo il suo nemico Akan che l'ha ingannata. Nel frattempo, nella sua officina, Kadir attacca Vaap, incolpandolo per aver rivelato la vera identità di Mehmet. Vaap nega, ma Kadir sospetta che Fikret sia stato inviato a Beirut da qualcuno che ha fornito le prove. Kadir avverte Vaap che sarà chiamato dal procuratore e deve negare di conoscere la vera identità di Mehmet, sperando che il procuratore gli creda altrimenti saranno entrambi rovinati. Preoccupata di perdere la fiducia dei suoi dipendenti, Zuleya incontra sia gli operai che i contadini, assicurando loro di essere sfuggita a una trappola e chiedendo loro di continuare a lavorare con impegno come sempre per gli Yaman. Lutfi resta al fianco di Zuleya con tutto il suo affetto, offrendole il suo sostegno in questo momento difficile e doloroso. Zuleya si confida con lei, esprimendo il suo sgomento per aver commesso un errore così grande con Mehmet, nonostante gli avvertimenti di Fikret. Si rammarica di non aver ascoltato, ma di essersi invece innamorata. Lutfi risponde con gentilezza, sostenendo che Zuleya ha creduto in Mehmet perché è una persona sincera, che ha vissuto molte difficoltà e forse aveva bisogno di qualcuno su cui potersi appoggiare. Inoltre, ricorda a Zuleya che Mehmet ha fatto di tutto per conquistarla. Ora, però, le consiglia di non essere troppo severa con se stessa, di lasciare che il dolore si esprima, ma di trovare la forza di andare avanti con la sua vita. Sermin fa visita a Betul, che attualmente vive a casa di Kolak. Betul si lamenta con sua madre perché Kolak non permette ai servitori di dormire lì e devono andarsene appena finiscono i loro compiti. Quindi, Betul è costretta a servire Kolak e poi pulire la cucina di sera. Sermin le suggerisce di usare l'astuzia con Kolak, di trattarlo con gentilezza per ottenere il massimo da lui. Poi le chiede quando si sposeranno, ma Betul risponde che non sposerà mai un uomo così anziano. Sermin la invita a considerare che Kolak è un uomo ricco senza eredi e con molti nemici, e potrebbe essere colpito da un attentato o avvelenato, lasciando tutte le sue ricchezze a Betul. Fikret, tornato dal Libano, ha dei dubbi su chi sia veramente Akan. Si reca in procura e ottiene il permesso di incontrarlo in cella. Fikret confessa di essere in debito con Akan, ma quest'ultimo ribatte che anche lui è in debito poiché non ha rivelato la sua vera identità a Zuleya. Fikret ammette di aver sempre sospettato che Akan nascondesse qualcosa, ma ora è convinto che non sia un contrabbandiere spietato e non intenda fare del male a Zuleya. Akan dichiara di essere disposto a morire per lei e che avrebbe rivelato la verità prima del matrimonio. Chiede a Fikret se pensa che sia un criminale o un agente governativo. Nel frattempo, Lutfi informa Zuleya che il sindaco, dopo una riunione, è stato ricoverato in terapia intensiva. Quindi Zuleya deve recarsi urgentemente in municipio per affari importanti. Tuttavia, vengono interrotte dall'arrivo di Fadik, che consegna ai giornali che riportano la notizia dell'arresto di un trafficante internazionale di armi a Kukurova. Leggendo gli articoli, Zuleya non può trattenere una lacrima. Lutfi propone di fare una vacanza ad Antalya con i bambini una volta che il sindaco si sarà ripreso, e Zuleya accetta con gioia. Nel frattempo, mentre il procuratore si trova nel suo ufficio, riceve una chiamata dal capo dei servizi segreti turchi, la stessa signora con cui Akan ha avuto contatti ad Ankara. Questa donna informa il procuratore di aver inviato informazioni su Akan Gumusoglu tramite un corriere speciale. Il procuratore conferma di avere la busta sigillata e classificata come top secret sulla sua scrivania e la apre con stupore per leggerne il contenuto. Nonostante la sorpresa, gli viene ordinato di seguire gli ordini contenuti al suo interno. Poco dopo, il procuratore, in presenza di Akan, convoca i giornalisti e gli abitanti di Kukurova, tra cui si trova anche Zuleya. Informa loro che il Ministero della Giustizia ha dichiarato che Akan, arrestato in precedenza, non è il contrabbandiere internazionale, bensì un rispettabile uomo d'affari che condivide lo stesso nome. Si scusa con Akan per l'errore e il trattamento subito, attribuito alla coincidenza di nomi. Akan prende la parola, spiegando di aver dovuto cambiare identità a causa della somiglianza con un criminale, chiedendo scusa a tutti per l'inconveniente. Successivamente, Akan si reca da Kadir, contento di vedere che la situazione sia risolta a suo favore. Tuttavia, ribadisce che la cosa più importante per lui è Zuleya e chiede alla signora Gungor di inviare rapidamente i documenti che provano la sua collaborazione governativa, nella speranza di poterle confessare la verità e ottenere il suo perdono, poiché non può immaginare la vita senza di lei. In quel momento, la signora Gungor telefona, annunciando che per il momento non può inviare i documenti richiesti a causa di problemi in corso nella missione, e rivelare la vera identità di Akan potrebbe comprometterla. Quando Zuleya torna a casa, ordina agli uomini di guardia al cancello della villa di non far entrare Akan Gumusoglu per nessun motivo. È sera quando Fikret si reca da Zuleya e le chiede se lo ha perdonato. Lei risponde di sì, spiegando che è andato a Beirut per scoprire la vera identità di Mehmet e fortunatamente lui e Cetin sono tornati sani e salvi, altrimenti non si sarebbe mai perdonata. Tuttavia, aggiunge di essere anche arrabbiata con lui perché le ha nascosto la verità. Fikret risponde che ha mantenuto il silenzio per non giudicarlo ingiustamente, poiché ritiene che se sta nascondendo qualcosa, potrebbe non essere un criminale. Altrimenti, non avrebbe rischiato la sua vita per salvarlo, come ha fatto quando lo ha portato attraverso la frontiera chiusa con la Siria. Se Akan fosse davvero il crudele criminale di cui tutti parlano e l'assassino di Demir, non ci sarebbe stato alcun motivo per salvarlo. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!